Musica Volevo aprire una parentesi, in questi giorni la linea 1 della metropolitana si è fermata parecchie volte Lei ha puntato molto... Deve chiedere a Pasquale Grazie, deve chiedere a Pasquale, non faccio l'amministratore di ANM Una domanda giusta, chiede all'amministratore e si faccia dare le spiegazioni tecniche Lei però sa che è molto tirato su questo Ma certo, io sono il sindaco e sono un cittadino Perciò deve chiedere all'azienda come mai accadono queste cose Non sono un tecnico, è giusta ma è sbagliato l'interlocutore a cui l'ha rivolta